Buongiorno a tutti, sono Edoardo e nel 2016 mi sono laureato in Ingegneria per la sicurezza sul lavoro e dell'ambiente. Attualmente lavoro in una società di ingegneria che si occupa della realizzazione di impianti petrolchimici e per l'energia in tutto il mondo. Il corso di laurea in Ingegneria per la sicurezza sul lavoro e dell'ambiente mi ha permesso di avere una maggiore conoscenza di tutti quegli aspetti che giornalmente caratterizzano la mia professione. Se siete quindi interessati ad avere molteplici sbocchi lavorativi in questo ambito non vi resta che iscrivervi. Buona fortuna a tutti!